18 punti nelle ultime segare, squadra che non conosce più stop dopo quella corsa a neri contro la San Giovannese. Rimini che sa anche soffrire, aspettare e ribaltare la situazione esagerando anche i fatti di finalizzazioni. Suo maggior maestro è buonaventura, mentre chi impara l'arte da lui è Guy Ebre che continua a crescere partita dopo partita e Ambrosin che chiaramente in fatto di gol non vuole essere da meno. Nel mezzo alla solita parata spettacolo di Scotti ed ecco che la festa prevede tutti i suoi principali protagonisti. In mezzo a Lara per 20 minuti ha sperato nell'impresa, seppur i gol non rimane un episodio fortunoso ma una semplice constatazione che la squadra è in crescita dopo un pessimo avvio. Ma troppo forte questo Rimini, troppo forte per tutti dopo una prima fase di studio. In effetti al sesto arriva un bel cross dalla sinistra di Guy Ebre sul secondo palo, su cui Viti però non arriva di un soffio. Lo stesso Viti dalla destra pennella un traversone per il colpo di testa di Ambrosini dal centro dell'area che però non riesce ad imprimere forza al tiro permettendo a Celeste di bloccare la sfera. A dodicesimo succede l'inverosimile, in mezzo a Lara passa in vantaggio con un trio dal limite di Mennarini che si insacca a fil di palo alla destra di Scotti. In tribuna c'è qualcuno che si guarda perché ricorda quella partita che fu tre anni fa quando a Budio proprio il mezzo a Lara si impose per 3-1 sul Rimini. Ma Rimini prova subito a rispondere, bella palla in verticale di Buonaventura per Ambrosini che a centro aria non trova la deviazione. Passano 60 secondi e di nuovo i biancorossi si spingono in avanti, Viti dalla destra con un bel traversone. serve Cicari invece che non riesce a trovare il tapin vincente, la palla infatti sfira sul lato opposto del campo. Al ventesimo grande parata di Celeste che annienta il tapin a colpo sicuro di Ambrosini sul cross dalla sinistra del solito a Goiello. Ancora il portiere di mezzo a Lara, protagonista sul tiro dalla distanza di Montanari con una deviazione della sfera sopra la traversa. A ventiseisimo sul corno di Pasquini Petti svette in aria e di testa sfira la traversa mentre Sacca, dall'altra parte, prende palla nel presso della bandierina, Saccente e lascia partire un tiro sul primo palo che grazie al tocco di Scotti va a sbattere sul legno esterno ed S, solo corner ma tanti brividi per i Rimini. Al 32 decimo però i Rimini previne al pareggio. Buonaventura riporta in parità i Rimini saccando un sinistro strozzato che non lascia scampo a Celeste sull'ottimo cross di Goiello dalla sinistra. In mezzo a Lara a questo punto stende bandiera bianca, poco ci manca quando sugli sviluppi della punizione arriva un bel cross da sinistra di Pasquini verso il limite dell'area dove Cicarevic di destra non perdona, ribaltando la situazione 2-1 per i Rimini. Prima della fine del primo tempo arriva un altro cross di Cicarevic da sinistra per Viti che di testa colpisce bene ma trova la presa bassa di Celeste mentre Menarini si riprova dal limite dell'area la sfera deviata a un difensore di Minese e sferri palo alla sinistra di Scotti ed S a fondo campo. Nella ripresa la fuga centrale di Cicarevic al sedicesimo minuto finisce con un fallo di Rigon prima che il trequartista di Minese entrasse in aria espulso il cetocappista per doppia munizione e dunque il mezzonaro si trova in 10 uomini. Al ventiduesimo Buonaventura e chi se no porta i Rimini sul 3-1 lancio perfetto per Ambrosini, Mangui va a vuoto, palli in mezzo per Cicarevic che trova libero a sinistra Buonaventura, su e destro sotto la traversa per il 3-1 bianco-rosso. Tra l'altro Buonaventura sarà munito per eccessivi festeggiamenti. Al teraquantesimo Alex Sambrosini non vuole essere da meno, partecipa anche lui alla grande rimonta bianco-rosa toccando in porta un cross di Buonaventura arrivato dalla destra. 4-1 è il Rimini che torna a sognare, il Rimini che torna a prendersi gli applausi del pubblico amico e adesso un uccelli con maggior tranquillità può ambire davvero a vincere questo girone. Grazie. 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 Grazie.